Buongiorno a tutti, sei il Sandic di Zagliù. La nostra piccola comunità, mentre si è difficile del coronavirus, lo sarà se è cucumè. Noi ci sono tutti, ci sono un amante. Le associazioni sono insamini a fare la spesa per le persone che poi non passano altre e la comunità gli è scelta che mette l'uomo. Purtroppo non sortiamo dal paio, sono tutti fatti nella nostra maizia. E noi, con il Sandic dell'Unione Montana-Biauta-Vall Suiza, siamo insamini a coordinare ciò che possiamo fare per aiutare ci che lavorano per mia linea, l'infermiero, l'epità di Suiza, le maizia degli anciani. non si può fermare il lavoro dell'Ord, non si può fermare ci che vanno dei libri di qua. E in nostro paio, fortunatamente, non ci sono dei positivi. Allora, gli auguri e le cerzioni delle cenni due, senza altro, li tengono vanno a cenze.